Aspetta, ok, Dragan, volevo chiederti se fossi contento di tornare a Milano rispetto al risultato ti chiedo di prometterci di venire a vincere la prossima volta Va bene, te lo prometto, non so quando ci sarà, spero che ci sarà molto presto io ti prometto di dare tutto me stesso, poi se riuscirò a vincere purtroppo non ho la sfera magica però anche oggi abbiamo dato tutti noi stessi, non ce l'abbiamo fatta ma l'augurio della prossima volta intanto che ci sia e vivere un'altra volta tutti noi stessi Come arrivi alla Final Six di Firenze? Carico, come sempre, un po' incazzato, che va sempre bene, con grande voglio di giocare ancora abbiamo bisogno di aggiustare qualcosina e lo faremo, spero, nel migliore dei modi in questa settimana quindi la testa da domani è libera Senti, quest'anno sei stato campione d'Europa, campione del mondo, l'anno prossimo campione del pianeta o di altri pianeti o vuoi vincere qualcos'altro? Ma sì, si può sempre fare meglio, quest'anno è andata bellissimo, è stato un anno speciale, con grandi successi oltre ai successi c'è stato tanto altro, il prossimo anno mi auguro di essere apprezzato come giocatore, come persona di dare sempre quello che ho sempre dato a questo sport e credo che quello sia già un ottimo punto di partenza Ti tiffiamo sempre, Dragan Grande, grazie mille